Salve a tutti abicicoperiani e bentornati nel canale, è passata un'eternità dall'ultimo video ma come sapete ho sempre portato giochi che mi facciano giocare per me Targov non ne faceva più fatte, infatti stavo portando le poche volte qualche clip mie che giocavo con gli amici tipo appunto l'ultimo video sia proprio quello di Lethal Company comunque ultimamente sto trovando in Starcraft tutto quello che cercavo in un gioco quindi grindare un pg ma allo stesso tempo qualcosa che forse avesse l'atmosfera di Stalker proprio come tappabuchi in attesa di Stalker 2 perché sì ci sarà una bella serie pure su quello poi vi ricordo che in descrizione c'è il link al disco italiano di Starcraft così se siete ingolositi dal gioco e volete fare gruppetto con qualcuno li troverete sicuramente gente soprattutto dal 10 luglio in poi perché esce un over completo del gioco basta che andate su youtube e cercate Starcraft X e voglio nerdare per riuscire ad arrivare il più possibile al pari dei ragazzi quelli del discord così che possiamo esplorare insieme le nuove zone e probabilmente ci farò una live qui su youtube il 10 sperando che Starlink mi benedica e niente oggi vi porto nel viaggio per craftare la prima armatura da pvp viola a livello 6 del bar che è la Warn Legionnaire e probabilmente la prossima cosa che farò in un video sarà la K103 quindi dai spero siate contenti di questo ritorno e vi lascio al video ciao ciao che stanno rompendo in cuore gli stalker eh nostri amici né quindi Freddy si è venticato e niente rip Freddy 3 e 4 routes mi sono dimenticato la plate quella nera che riduce sacco i danni rispetto a questa ma ce la vorrei mandare bene siamo il broski tanto dobbiamo far mare i zombie group e e e e i quelli con il più che sono gli alleati che ci dovrebbero dare i beta data fragment però il broski è morto praticamente sognerebbe difenderlo ma non ha vita e niente evento ripato ma quelle che ci hanno già viste ah ma quello ha pure fatto il saldino oh oh i topini oh oh i topini la claccia no assurdo tangucci allora qui funziona come tutti gli stalker praticamente che ogni volta che senti pluma stiamo entrati nell'area di qualcuno ovviamente nell'area di giocatori però non sai se sono amici o nemici dentro per radiazioni più forti oddio andate a casa allora per dire il vero queste batterie non mi servono proprio però tanto per fare l'arma serviranno avanti oh cazzo c'ho solo due colpi vediamo se oggi riesco a farmare senza problemi che ultimamente cagano la minchia poi se non mi sbaglio cioè questa è la zona più per i per i banditi i stalker dovrebbero esserne la loro zona che si fanno per questi materiali se non erro eh poi ovviamente io non sono nel spaz plom plim plom plim plom bella raga uno tre uno due e tre storno ok oh questi ci danno di beta dalla fragment anche quelli ci ne mancano un bel po' un'altra cosa di zombos bella oh 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 ma questo è salito questi salgono anche oh oddio eh coglione oddio pazzi ci si inizia a vedere sono 24 che 40 di quei cristallini sono praticamente un livello del battle ce ne sono cinquecento pazzi vera andiamo ad aiutare questi quello là ma questo questo scugnizzo proprio che cortello mi rincorreva vai spieghiamo colpi ah spieghiamo colpi ma sono a zero vai 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 l'hai abbastanza indisturbato ok questa è andata c'è un altro madonna quello è un cadavere dio santo ok let's go ski come ormai si suol dire qualche altro bro si questo yes allora 84 21 35 di quelli ok ce ne sono altri due ok andiamo via e speriamo di sopravvivere il viaggio che altro non tanto questo ma quello che ci aspetta al bar perché al bar si divertono a camperagliene di brutto vediamo dove si stanno fightando a posto proprio dove devo passare io ogni volta che esco bello pieno c'è uno stronzo nel nostro corridoio principale però non rompa le palle adesso e purtroppo con il sistema di mmr di questo gioco rischio di trovarmi jesucristo amberon senpai guardalo guardalo proprio sul passaggio nostro dai 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 let's go oh allora qua tutti questi go to trade on ce ne mancano 21 e meno di 200 dai dai o via si ritorni là praticamente da questo momento in poi cerco anche qualche modo per farmare un po' di più quindi pure dalle missioni nelle bacche settimanali e giornaliere però oltre a questo praticamente c'è anche quello che ti fa portare design quindi guardo un pochettino vedo questo backpack di solito da un po' di più e almeno in quelli del premium te puoi scegliere che cosa prendere quindi ci mettiamo la dopestone ovviamente no? perché 21 fanno gola e ce ne dobbiamo andare nel full of path che comunque è una zona che si rivelerà una zona chiave quindi adesso praticamente mi svuoto per cercare di capire che cosa come liberarmi e svuotarmi e una volta capito siamo pronti ci compriamo qualche cosina una plate nuova quella nera che è buona in caso mi ritrovassi contro qualche player questo assorbe il 70% di danni però ovviamente come armor è molto debole insomma c'ha pochi punti e niente si comprano pure pure cioè pure diciamo più buff per portare peso stamina eccetera e si vola verso the full of path the path of full me cazzo si chiama e niente qua decido di mettermi tutto a sinistra corro a manetta perché più avanti c'era questo coso con le palle poi vediamo più avanti dove c'era gente e puntando vedo un punto che non mi sembrava che seguisse quello che si muoveva quindi probabilmente erano due ma il mio goal era farmare e portare sto zaino e quindi arriviamo alla meta dal nostro amico con addirittura la mia armatura e niente là c'è un bro a posto ci possiamo rimettere il mio zaino e quindi dico ma sai che effettivamente qua dovevo fare qualcosa quindi cioè devo prendere no questa bile che la bile si prende facendo i campi dei mutanti e allora cazzo devo fare qua in path of full o army warehouse andiamo qui però non avevo un cazzo di munizioni mi erano rimaste solo quelle della k perché mi ero in mente dovute lasciare quindi dico cazzo apro sta cassa e niente una flashback speravo ci fosse delle munizioni almeno del pompa e una flashback ma ce l'ho io in chiamo qui ci doveva essere un bloodsucker e in gioco la casa non c'è una sega di niente ma tanto non vi preoccupate ci arriva a fare il salutino ecco il libro niente easy e peccato che era solo uno quindi ci dà meno roba dopodichè niente vado avanti con quelle poche munizioni che ho facevo quello che potevo però tanto alla fine ero un po' reso ma c'è quello delle palle quello che avevo detto prima semplicemente devi correre dentro non toccare quelle lì quando esplodono cioè letteralmente correre correre finché quel progresso non arriva al 100% e quindi corri in tondo si corre a manetta si corre fa giro giro tondo giro giro tondo giro giro tondo cassettina e niente si torna indietro correndo questa volta tutto per la parte destra e una volta arrivati sono e salvi mi ripiglio tutta la mia robina che avevo mollato e niente niente si riparte uguale a prima tutta a sinistra e si corre bene però si corre io apro e non non vedevo niente c'era solo un pallino ma correndo se Deo vuole si erano riaperti e niente si fanno le palle si incontrano amici si ammazzano bloodsucker ancora bloodsucker mi prendo una bella cassa altre palle mi facciano le palle cassa altri bloodsucker la cassettina altre palle ah no questo è scherzato voi lo saltate per fare il campo qua perché danno le dobs cassettina evento aiuta gli amici qua c'erano veramente tanti ma tanti veramente tanti e poi niente metto a cecchina sti cani non lo so un po' di fetish nel cecchinare i cani quando posso la testa volta mi ero portato un vero fucile a pompa cassettina e poi si ti beggo il filo spinato perché non mi ha fatto sanguinare qua altro accampamento cassettina e cassa a manetta e si continua a fa cassa e pure mutants bill al 10 su 10 quindi che dico si torna indietro sono indietro per arrivare sanni e salve al bar toh yeh avancù ok allora invece di andarmene a prendere pure gli ultimi che mi mancano di opera mi mancano solo 42 di questi quindi si fa lo scambio scambiattino golosino solo basta basta ci dovremmo essere ci dovremmo essere ziofera questo 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 si 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 c'è un nerd maia questo qua vabbè 108k ma tanto ci sai il coupon 36000 yeah let's go pure durante una cazzo di emissione mamma mia ore e ore di farma finalmente la mia prima armatura viola si vola get better in ranked armor non si vede credo nel video però mamma mia mamma mia si modifica si mette questa posto ogni volta yeah yeah let's go let's go trema tutto bene anche missione finita mamma mia ce l'ho fatta che cazzo c'è qui salve amico ce l'ho fatta ziofera sto registrando un'ora e mezzo più vabbè ho fatto ore ore e ore di farming per prendere quelle cose quindi signori io vi ringrazio mille per la visione per la visione spero che vi piaccia questo questo ritorno sto investendo un po' nel canale come avete visto dalla copertina spero vi piacciono questi tipo di video con momenti diciamo anche narrativi quindi comunque fatemelo sapere nei commenti non vi dimenticate di andare nel discord italiano se volete qualcuno con cui giocare perché poi il 10 ci sarà il super aggiornamento in cui ci divertiremo tutti quanti insieme io sto cercando di arrivare il più possibile in là per riuscire a fare i nuovi contenuti come gli altri ragazzi e quindi niente se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto sciogli lingua zio vera e niente dai noi ci si vediamo al prossimo video bella bella ciao ciao